Facundo Lescano è da oggi ufficialmente un nuovo giocatore della Triestina. Nella mattinata i due comunicati ufficiali del Pescara e della società giuliana. Se nel primo caso, oltre ai ringraziamenti di rito e gli auguri per le migliori fortune sportive, si parla di trasferimento definitivo, nel secondo caso la Triestina fornisce qualche dettaglio in più sulla formula, che è quella del presido per la stagione 2023-2024, con obbligo di riscatto per le prossime due stagioni. Dunque, di fatto un trasferimento definitivo e per il calciatore un contratto triennale, ma la formula, così come impostata, fa sì che il Pescara non incassi subito, ma lo farà nel 2024, il prezzo di vendita del centroavanti argentino, che sfiora i 600 mila euro tra parte fissa e bonus. Per un trasferimento ufficializzato ce n'è un altro che lo sarà a breve. Si tratta del difensore Gianmarco Ingrosso, che è pronto a indossare la maglia del Pineto e fare lo stesso percorso di Gianluca Germinario. Il bienio di Ingrosso si chiude con 50 partite al suo attivo, tra campionato Coppa e Playoff, più protagonista nel primo anno con Auteri e Zauri in panchina, quando ha collezionato 33 gettoni contro gli appena 17 dell'ultimo anno, 14 da titolare, tutti con la gestione Colombo. Con Zeman, Ingrosso non ha mai giocato e non è più rientrato nei piani. In entrata, invece, il Pescara ha praticamente definito l'innesto di Antonino De Marco, 19enne mezzala di buona struttura fisica che arriva dalla Vibonese, dove è stato allenato lo scorso anno da Giacomo Modica, che lo aveva segnalato allo staff di Zeman, ed ha anche provato a portarlo a Messina in questi giorni, ma il Pescara alla fine ha avuto la meglio. Mentre la preparazione prosegue, a breve l'allenatore Boemo avrà a sua disposizione anche il 19enne esterno Federico Accornero, che arriva in prestito dal Genoa, col quale ha svolto i primi giorni di allenamento in Val di Fassa. Domani, invece, primo test per il Pescara alle ore 18 contro i direttanti della Vis Cerratina. Si giocherà lo stadio Mastrangero di Montesilvano, con ingresso libero, ma accesso limitato a 100 spettatori.